È Sion True Silver, Sion True Silver coming for you Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più Dai tuffati anche tu nel mondo di Sion Qualcuno spenga quel dannato televisore La mia task force è fuori dal paese, comanderò la vostra unità se siete fuori Sì signore, è tutta sua Ho richiesto uno striker blindato di classe 8 Lonnie Badger è roba tosta Vi spianerà la strada, i russi ci stanno annientando difese e informatori Non devono arrivare in quest'area Indichi il luogo sulla map, non ci arriveranno Hunter 2-1, qui Hunter 2-1 Actual Gli elicotteri di evacuazione stanno subendo grosse perdite per via delle contraeree Dobbiamo distruggere le contraeree per consentirgli di evacuare il resto dei civili Andiamo Squadra, proteggete lo striker Attenti ai nemici a piedi con gli RPG Soglietevi dalle strade Squadra, vuoto di soppressione su quella casa Squadra, vuoto di soppressione su quella casa Non rimanete in strada, mettetevi a riparo nelle case La poteruita Hunter 2-1, poterlo nella strada Ragazzi è cominciata malissimo questa missione ma bentornati sul mio canale Sono nuovamente qui su Modern Warfare 2 Stiamo prendendo piombo in tutti i modi Granate, granate, spiogge di piombo Veramente non si capisce proprio nulla qua Monster 2-1, grazie per l'aiuto Non stare attenti a non far distruggere Squadra, corretemi per le case, andiamo, andiamo Sì, però Ragazzi non sto capendo veramente nulla Avete visto quanti nemici Potrebbe essere qualunque a casa grigia Io devo disegnare il bersaglio ma il tasto non funziona ragazzi Non capisco veramente niente in questa missione, credetemi Mi sembra che li sto ammazzando tutti io i nemici Come sempre Veramente allucinante come missione È assurda come missione, veramente E Maledetta granata Granate ovunque ragazzi Avete visto? Io vedevo granate ovunque Fortuna che ho visto poi con l'RPG Squadra, usate i segnalatori laser Datevi il bersaglio allo striker Il bersaglio potremmo darglielo ovunque Non funziona il segnalatore laser Ecco qua Quanti nemici Eh ho colpito un alleato Che ci possiamo fare ragazzi Oh Veramente Piove fiombo ovunque Dove sono le torrette roba? I nostri sistemi antimissili non possono gestire questo volume di fuoco di RPG Dovete sforchirli Mi ricevete Passo Forte e chiaro Badger 1 Ci pensiamo noi Togliete di metto quella torretta roba Dov'è? A tutte le momentà Hunter 2 Badger 1 Desegnate i bersagli Ottimo lavoro Hunter 2-1 Grazie per l'aiuto Grazie Sopritemi Cazzo sto finendo Sto finendo i proietti Tanti ne ho sparati Dall'arma principale Sto finendo Quante granate ragazzi Quante granate Vedo arrivare Allora adesso Rispetto all'inizio della missione È leggermente più vivibile La missione Leggermente Granata Dannata Dannata No io non vedo nemici ragazzi Veramente non riesco a vederli Nemici Non è successo a vederli A tutte le unità Hunter Qui Badger 1 Tenetevi pronti a colpire i bersagli Passo. Hunter 2-1, Actual, qui Overlord, fate l'apporto, passo. Abbiamo superato il blocco del checkpoint, finito. Scendiamo in Arcadia, passo. Ricevuto, ho nuovi ordini per voi, direttive dall'alto, passo. Ricevuto Overlord, ricevuto. La vostra squadra deve deviare verso 4-6-7-7, Brooke Verrote, dopo aver eliminato la contraerea. Ricevuto Overlord, eliminare la contraerea e deviare verso... 4-6-7-7, Brooke Verrote. Ricontattatemi, non appena avete ultimato l'obiettivo principale. Passo e chiudo. Ramirez, Oliverger in movimento, fatti da parte! Squadra, usate i segnalatori laser. Date le bersaglie allo Stryker. Ragazzi, ci sono nemici, granate, proiettili ovunque. Non capivo cosa dovevo fare. Ho potuto solamente mettermi a sicuro, a riparo. Un colpo, un colpo ci ha ridotto così, in fin di vita. Forse siamo riusciti a dargli una direttiva, eh? Ragazzi, è difficilissimo, credetemi. È una missione difficilissima questa. Si viene shottati, ogni 2-3-3 si viene shottati. Ok, ho cercato di sfruttare fino appunto della ricarica tutti i proiettivi, ma capite quanti ne stiamo sparando. Voglio dire che la frequenza dei nemici è impressionante. Si potesse dire così. Nuova ricarica, ragazzi. In casa? Ok, andiamo in casa. Ragazzi, riproviamo ad entrare in casa. Io non capisco veramente chi mi stia sparando. Chi mi spari è dove mi sparino. Dai, lo vedevate voi? Io vengo veramente shottato, credetemi. Non capisco i nemici, dove sono, chi sono. Ragazzi, ho veramente fatto il meglio che potevo, credete. Usa il segnalatore laser per far intervenire l'artiglieria su quei veicoli. Posso dire che ogni volta il segnalatore laser cambia? Ordine di ingaggio ricevuto, artiglieria in arrivo. C'è una volta a sinistra, una volta a destra il tasto per attivare. Fatemi capire, perché? Boom! Overlord, qui Hunter 2-1-X-4, contraerea neutralizzata. Ci dirittiamo verso 4.677, Brutman Road. Domanda, cosa stiamo cercando esattamente? Passo. Sergete Foley, qui Generale Shepard. Dovete estrarre una persona di massima importanza da rifugio blindato al secondo piano di quella casa. L'obiettivo vi attende. Parola d'ordine Iceberg, controparola Fenix. Portatelo via da lì e fate rapporto Overlord. Passo è chiudo. Va bene. Avete sentito? 4.677, Brutman Road. Muonerci! Ok, torniamo su questa mitagliatrice. Ok, torniamo su questa mitagliatrice. Vai, Spig! Qui c'è qualcosa da uno. Per lo strato è il rifugio, muoversi. Nessun coscritto forzato. Ramirez, prendi quella valigetta. Ho quel che ne rimani. Sergente, guardi i tatuaggi. Non i soliti paracadutisti, o mi sbaglio. Fate un paio di foto per la G2. E frugate i cadavere. Wah, Shepard non sarà contento. Overlord, il VIP è morto. Ok, e finisce qui, credo, la nostra missione. Alla prossima. Grazie a tutti.